Un incontro molto costruttivo, molto importante per conoscere quali sono le esperienze e le eccellenze sul territorio, un incontro necessario per condividere visione, strategia e metodo verso il percorso dell'innovazione che deve agire a tutti i livelli e su tutti i territori, facendo in modo che chi va più veloce trai nel più lento.